Pedersoli ha deciso di investire nell'arma leva, nella fattispecie nella meccanica 86, arma leva che sta diventando sempre più un riferimento su territorio internazionale e statunitense in maniera particolare, forse grazie anche ai limiti che progressivamente stanno imponendo sul munizionamento che vede una scelta avvantaggiata della munizione cilindrica a discapito della munizione a forma di bottiglia. Stiamo avendo un discreto successo che ci sta portando a dare sempre maggiore enfasi a questa piattaforma con l'idea di svilupparla sempre di più in futuro.